Peter Barrett. Scusami? Io mi chiamo Sofia. E mia madre ha detto che ti chiami Peter. È un orologio biometrico. Contiene un disco rigido con accesso ai suoi contatti, informazioni rubate. Vogliamo recuperare tutto. Voleva che trovassi qualcuno che si chiama Peter. Ma io mi chiamo Mark, quindi non posso aiutarti. Eri nella CIA come mia madre, giusto? I tuoi dipinti sono meravigliosi. Ehi, senti, ferma, non li toccare. Questa è lei. Questa è mia madre. Quindi tu la conosci? Va di sopra. Va in bagno, ultima porta a sinistra. Entra nella vasca. Che sta succedendo? Tu sei Peter Barrett. Come mi hai trovato? Cosa sai di Peter Barrett? Il pittore. Suo figlio ha ucciso otto agenti federali a sangue freddo. Cosa? Ho bisogno di trovare una persona. Sarò io. Peter. Dove sei? Posso fidarmi di te? Oggi due agenti si sono presentati a casa mia per chiedermi di te. Sta nascondendo qualcosa. Io sono l'unico che ti può proteggere. Voglio sapere delle persone che sono venute a uccidermi. Pensa che tu sia in possesso di un'informazione che mette a rischio la nostra sicurezza nazionale. Scoprirò che cosa hanno fatto a tua madre. E poi? E poi lui farà quello che sa fare. Mi servirebbe la tua attrezzatura. Non vorrei ucciderti. Grazie a tutti.